Amici di ProMirals, oggi vi parlerò ancora nell'obiettivo della la ova, la ova Venus Optic. Se ci seguite avete visto che abbiamo già presentato altri articoli su altri obiettivi la ova. La ova è un'azienda cinese che si sta distinguendo per una produzione quanto mai originale, perché ha in cataloghi obiettivi che molto spesso non sono neanche presenti nei cataloghi degli altri casi costruttrici, obiettivi tutti caratterizzati, prima di tutto da un ottimo rapporto qualità prezzo, una costruzione estremamente raffinata, tutto in metallo, obiettivi tutti a messo a fuoco manuale, non hanno neanche per dire i contatti che trasmettono i dati EXIF alla macchina, mi auguro che la ova implementi tra poco, almeno spero, questa funzionalità in più che permette una gestione più agevole quando siete davanti al vostro software di riconversione e non vi dovete ricordare che diaframme avete utilizzato per dire, quindi permette una catalogazione più corretta e anche una vi sincerate della qualità dell'obiettivo, perché magari non vi ricordate se avete fatto quello scatto F4, F8, F11, quindi è un controllo in più. Vi parlo oggi quindi della ova 11 mm 4.5, qui lo vedete installato su una Sony A9, abbiamo sostituito la 7R3 e ci siamo presi una A9 usata ragazzi è perché non è che siamo molto ricchi quindi abbiamo cercato l'occasione giusta, una Sony A9 che ci permetterà di provare oltre a questi obiettivi, in questo caso la ova ci è stato fornito con l'attacco e mount, ma anche tutti gli obiettivi con attacco Sony E, sfruttando le prestazioni ancora eccezionali di questa A9 prima versione. Comunque a parte queste chiacchiere vedete questo 11 mm 4.5 che pesa circa 250-300 grammi, quanto è compatto, è un 11 mm ma non fichei, rettilineare, quindi non c'è nessun effetto occhio di pesce, praticamente il frame è coperto interamente ed è una gran cosa perché piccolo com'è, 63 mm di lunghezza, 6 cm e mezzo, ve l'ho detto 250-270 grammi di peso, portarselo dietro proprio peso zero, ingombro zero, vi serve fare una grande angolata, un paesaggio super incredibile, siete all'interno di un bel museo, di una bella chiesa, piazzate su questo obiettivo, lo togliete dalla borsa e avete un effetto wow. Adesso andremo a vedere in effetti come sono le sue prestazioni su questa Sony A9, sfruttando ovviamente l'ingrandimento di messa a fuoco, il focus ping, insomma tutte quelle funzionalità moderne che sono su tutte le mirrorless, chi più chi meno. Prima di continuare la nostra chiacchierata vi ricordo di fare l'iscrizione al nostro canale e di spuntare la campanellina. Chi ci segue lo sa già, Pro Mirrorless non parla solo di prove tecniche, di obiettivi, macchine fotografiche che ci vogliono sinceramente, per forza, è la nostra passione, però si parla 360 gradi di fotografia, quindi ogni volta che se fate la campanellina, ogni volta che uscirà un nuovo articolo sarete avvisati. Nella parte testuale di questa recensione troverete poi un link che vi porta alle pagine di quattro corsi, corso dallo scatola stampa fine art, corso bianco e nero fine art, corso composizione fine art e l'ultimo corso master flash. Vi dicevo noi parliamo di tecnica, parliamo di grandi fotografi, parliamo a 360 gradi di fotografia, però è importante molto approfondire la propria cultura fotografica nel senso tecnico, quindi sapere bene quello che è la composizione, sapere sfruttare bene il vostro computer per fare un bianco e nero naturale, sapere benissimo cos'è la colorimetria, sapere utilizzare un flash, queste cose sono importanti. Andate a dare un'occhiata poi valuterete o meno se sono argomenti, ma credo di sì, ve lo consiglio che vi interessino. Allora continuiamo a parlare di questo, la ova, ve lo faccio rivedere più da vicino, 11 mm, ripeto non fisheye, f4 e 5. Allora non è un obiettivo dichiarato zero distorsione dalla ova, però già dai primi scatti ho capito che non si comporta affatto male, ma andremo a vedere bene in dettaglio appunto se il problema distorsione sono 11 mm full frame, miseria, cioè me lo aspetto un po' il problema di iniettatura, il problema di aberrazioni vengono fuori e quello che è la nitidezza. Però sono fiducioso, la ova lavora solitamente molto bene. Adesso andiamo a vedere da vicino come è fatto l'obiettivo e poi con l'ightrom andremo a vedere tutti gli scatti che ho fatto girando al solito nella mia città Parma e giudicheremo il suo funzionamento. Alla fine vi dirò quelle che sono state le mie impressioni girando con questa A9 con sopra l'11 4.5 di la ova. A voi il corpo. Ecco qua il la ova 11 mm 4.5 per full frame, quindi un 11 mm 126 gradi su un full frame, un angolo di campo quindi veramente estremamente ampio, nonostante questo è un obiettivo estremamente compatto. Io l'ho utilizzato sulla A9 che vedete sullo sfondo e qui la vedete la A9 con installato il 14 mm f4 che sarà oggetto di un prossimo test. Comunque questo 11 mm 4.5 per soltanto 254 grammi e lungo 63 mm e mezzo e a un diametro massimo di 58 mm. Ha un diaframma a cinque lamelle, adesso cerco di farvele vedere, vedete eccole qua cinque lamelle che chiudendo il diaframma permettono un bel effetto stella a dieci punte, quando il diaframma è dispari si ha il doppio di punte sulle stelle. Ghiera dei diaframmi con un movimento estremamente fluido e si sentono anche gli scatti con estremamente precisione. Per non parlare della ghiera di messa a fuoco con una fluidità per me eccellente, la ghiera di messa a fuoco meccanica, com'è meccanico l'obiettivo, è godibilissima e questa nido di rondine che permette la messa a fuoco estremamente agevole, estremamente precisa, ricorda un po' gli obiettivi Leica. E' un obiettivo comunque che viene dotato volendo da tantissimi tipi di innesti, Leica M in quel caso avremmo avuto la cam per raccopiarsi al telemetro, Sony E come questo qui, come questo che ho provato, Nikon Z e le mount, quindi tantissimi innesti anche Nikon Z appunto. Quindi abbiamo detto un obiettivo estremamente compatto però contiene 14 elementi in 10 gruppi e una distanza minima di messa a fuoco di 19 centimetri che permette degli effetti spettacolari con un obiettivo con un angolo di campo così ampio. Il diametro filtri è 62 mm, si possono montare i filtri normalissimi, volendo si possono anche montare i filtri a lastra con un adattatore, però questo obiettivo può essere dotato di un polarizzatore, per dire classico, da 62 mm, quindi la compattezza regna sovrana. Un obiettivo tutto in metallo, non ha purtroppo, lo dico sempre per la UBA, una troppo tropicalizzazione, quindi non ha neanche l'anellino in gomma che ne conferma appunto la non tropicalizzazione, spero che prima o poi la UBA ci faccia un pensierino e doti tutti gli obiettivi sia della tropicalizzazione, almeno dell'anello di guarnizione per la baionetta della macchina, sia dei contatti EXIF per trasmettere le informazioni alla macchina stessa. Come vedete non ha neanche i contatti EXIF. Comunque l'obiettivo compatto, molto leggero, tutto in metallo, costruito in maniera raffinata, che è una goduria. È una goduria a tenerlo in mano, è una goduria ad operarlo, come tutti gli obiettivi della UBA. La UBA in questo campo non si smentisce mai. Iniziamo a valutare le prestazioni dell'11 la UBA, quindi super grandangolare, guardando appunto le sue prestazioni a infinito. Ho utilizzato i vari diaframmi di lavoro, questa è una scatola, la faccio vedere, ingrandimento normale a tutta apertura, voglio dire 4,5, 5,6, 8, 11, 16. Già qui si può apprezzare, senza andare a ingrandire più di tanto, l'eccellente lavoro della UBA. La giornata non era delle migliori per fotografare, però purtroppo non ho potuto fare altrimenti, dati i tempi ristretti per testare questi obiettivi. Quello che vi faccio notare, già qua si nota, la nitidezza comunque sempre presente, io non ho fatto nessuna ovviamente correzione, ho lasciato i file esattamente come erano utilizzando 1,9. Andiamo a confrontare adesso i file varie aperture per vedere le sue prestazioni, quindi qui a sinistra non si vede il diaframmi in uso perché questo obiettivo non ha contatti EXIF, io spero che la UBA prima o poi li metta, però come ho fatto all'antica, come quando facevi test con le macchine a pellicola, mi sono marcati i vari diaframmi. Andiamo a ingrandire al 100%, qui a tutta apertura, 4,5, qui chiuso di uno stop 5,6 e devo dire che al centro già a tutta apertura la nitidezza è buona e rimarchevole. Ho utilizzato, ripeto, una Sony A9 con un profilo standard, quindi non ho spinto affatto sulla colorimetria, non ho applicato nessuna maschera di contrasto, i file esattamente come uscivano dalla macchina. Man mano che ci spostiamo ai bordi, qui si vede a tutta apertura che l'immagine stiracchia un po', dovuta anche comunque all'obiettivo super grandangolare, perde un po' di nitidezza, a 5,6 già qualcosa si acquista. Andiamo a vedere dall'altra parte, sull'altro bordo, qui sulle foglioline si nota, vedete anche qua, sui rami una certa morbidezza tutta apertura, però ci mancherebbe altro. Già chiudendo di uno stop andiamo a migliorare. Man mano che si va a chiudere, qui abbiamo, vi ricordo il 5,6, qui abbiamo l'F8 che è uno dei diaframmi ottimali per questo obiettivo, al centro abbiamo ancora una spinta ulteriore, ma non tantissimo, comunque un ottimo microcontrasto e vi assicuro che dato, diciamo, l'illuminazione che ne aiuta certo ad esaltare i dettagli, questa prestazione è già veramente molto molto buona. Quello che acquista tanto è il bordo periferico dell'immagine, vedete la nitidezza a 8 rispetto a 5,6 e comunque qua ai massimi livelli, quindi a f8 si è già in nitidezza eccellente, guardate anche qua i rami sullo sfondo, il dettaglio c'è assolutamente, vi dicevo f8 si è già in nitidezza eccellente su tutto il campo inquadrato. Qui da 8 a sinistra passiamo a f11, il centro rimane sempre molto buono, guardiamo ai bordi se comincia a coprire la diffrazione, assolutamente, quello che nota è sporcizia sul sensore, mi ricorderò di pulire il sensore della nostra A9, a f11 l'intidezza è molto molto buona su tutto il campo inquadrato, è chiaro che a f11 avete una profondità di campo elevatissima, quindi diciamo che a f11 l'obiettivo lavora veramente al massimo delle sue prestazioni all'infinito, l'intidezza su tutto il campo e vi assicuro soddisfazioni al massimo livello. Andiamo a dare una curiosata a f16 se compare diffrazione, leggermente si perde un po' di dettagli al centro, andiamo a vedere i bordi, i bordi rimano sempre comunque molto buoni, quindi questo è un obiettivo che è infinito, si può adoperare chiudendo di uno stop quindi da 5-6 sino a f16. Andiamo a vedere le prestazioni adesso a media distanza di lavoro. Si nota già comunque della distorsione, ma è più che altro quello che impressione la resa prospettica di questo obiettivo, qui sarò stato a circa due metri da questo muro. I vari diaframmi si nota già comunque la vignettatura, anche qua ho usato, sono partito da 4 e mezzo, 5-6, 8, 11, 16, senza andare a grandire, si può apprezzare comunque l'eccellente nitidezza a distanza media, la prospettiva direi quasi esagerata, la vignettatura sicuramente presente, andiamo a ingrandire al 100% il dettaglio veramente alto. A media distanza di lavoro, ecco qui si nota un po', vedete i bordi, qui siamo a tutta apertura, andiamo a confrontare, confrontiamo subito con il diaframma, con uno stop di chiusura, vedete a media distanza i bordi lasciano un po' a desiderare, sono un po' morbidi, chiudendo di uno stop si acquista tantissimo, andiamo a vedere dall'altro lato, vedete 5-6 e l'obiettivo spinge già tantissimo, il centro comunque sempre molto elevato già da tutta apertura, andando a chiudere successivamente, qui siamo a f8, ecco a f8 l'obiettivo lavora praticamente al massimo delle sue capacità, nitidezza veramente elevata, centro, bordi in maniera assoluta, guardate anche le foglie qua, le foglioline sono eccellenti, anche devo dire che l'a9 si comporta bene, me la ricordavo un po' peggiore, devo dire la verità, invece le sue prestazioni sono veramente buone, 24 milioni di pixel su un full frame, guardate a f11, f8, f11 le prestazioni veramente elevatissime su tutto il campo, nitidezza veramente ottima, è un obiettivo che a medie distanze di lavoro vi permetterà sicuramente grandissime soddisfazioni e anche f16, guardate la nitidezza è veramente elevata, voi chiudete f16, vi assicuro che vi dimenticate la messa a fuoco, messa a fuoco che va dalla minima distanza, qui praticamente ho quasi il piede del cavalletto, quindi a mezzo metro da me, forse neanche a tutto il campo inquadrato. Andiamo adesso a vedere quello che è la sfocatura dell'11 mm, la sfocatura che può essere importante su un obiettivo di questo genere con un campo inquadrato amplissimo, un diaframma non molto ampio, un 4,5 mm, ma la distanza minima di messa fuoco è veramente molto bassa, io ho cercato di mettere a fuoco questo lucchettone e lo sfocato vedete diciamo che va a convogliare lo sguardo su questo soggetto in primo piano e chiaramente deformazione prospettica ce n'è anche perché io ho tenuto la macchina leggermente inclinata, ma lo sfocato non è da urlo, non è da obiettivo da ritratto, non è quello che ti fa dire wow guarda che Buchen, però non è neanche troppo duro e comunque fa parte della filosofia di questo obiettivo avere un'ottima nitidezza sia alla minima distanza che all'infinito, ancora di più forse direi a meglio distanza, per dare un po' di esaltazioni prospettiche, man mano poi che si chiude il diaframma vedete lo sfondo diventa sempre contestualizzato ma l'immagine ha sempre una certa drammaticità, niente di che non è un'opera d'arte ragazzi non voglio dire, però per farvi capire le criticità di avere un 11 mm su un full frame. Diamo un'occhiata a quello che è la distorsione e la vignettatura, anche qui nessuna correzione, devo dire che l'obiettivo non è dichiarato un zero distorsione da parte della UBA, però la distorsione sì c'è, leggermente a barilotto si nota specialmente sotto questa parte, ma assolutamente molto molto corretta, tenendo conto appunto che non ha fatto nessuna correzione, non mi permette neanche di farlo Lightroom, vedete io non ho applicato nessuna correzione all'obiettivo e tantomeno me lo va a correggere perché non spostando le informazioni EXIF non può neanche sapere che obiettivo è installato sulla macchina, si può correggere manualmente. Quindi distorsione molto molto corretta, quindi non è un zero distortion come di solito, come spesso scusate la UBA dichiara per i suoi obiettivi grandangolari super grandangolari però corretta molto bene, quella che è sempre presente vedete ha tutti i diaframmi praticamente è la vignettatura, cosa direi non del tutto spiacevole ma si può correggere facilmente. Andiamo adesso a vedere quelle che sono le aberrazioni, cominciamo a vedere a tutta apertura quindi a 4,5 andiamo a ingrandire tantissimo, quello che si nota subito che c'è differenza, siamo al 300% di ingrandimento del centro rispetto ai bordi, i bordi sicuramente vedete già alla periferia sono sicuramente meno nitidi e le aberrazioni direi che sono tutto sommato sotto controllo, non si notano più di tanto, andando a chiudere di uno stop le aberrazioni sono sempre controllate bene quindi anche sotto questo aspetto io non noto nessuna devianza cromatica ai bordi, forse leggermente, leggermente un po' di bordi violaci qui sulla mia amata croce che utilizzo spesso per andare, se mi avete seguito, se ci avete seguito, le aberrazioni però le aberrazioni sono veramente tenute sotto controllo. Andiamo a vedere il flare, flare che alle volte sui laova ha lasciato un po' a desiderare, questo è uno scatto evidente a tutta apertura, il sole vedete qui è proprio al bordino del teatro reggio di Parma, vi faccio apprezzare comunque sempre l'eccellente nitidezza già a tutta apertura, questo è uno scatto diciamo urbano di questo obiettivo, flare qui non ne vedo, qui ha chiuso a f22, bello l'effetto stella e nitidezza assoluta su tutto il campo, guardate comunque la deformazione prospettica con 11 mm e dietro l'angolo. Ho fatto un paio di scatti, alla fine della giornata della mia giornata di prova, di testa, avevo diversi pezzi come da testare, è arrivato fuori questo sole e approfittando di questo fatto ho cercato di mettere in difficoltà l'obiettivo, qui a tutta apertura, qui a f22, vi faccio notare che c'è un leggero riflesso interno come spesso capita a tutta chiusura ma tutto sommato c'è la correzione, mi sono girato dalla parte opposta dove c'era una luce veramente difficile e stavolta il flare sono riuscito a tirarlo fuori. Vedete in questa zona dove ho messo la punta del mouse si nota ai vari diaframmi di lavoro vedete sicuramente la presenza di un flare, il sole praticamente andava a sfiorare la lente dell'obiettivo, chiaramente non ho utilizzato nessuna protezione e il flare vedete va a abbassare notevamente il contrasto, vedete questi riflessi. Quindi in certi casi, vedete qua si nota tanto, dovete prestare molta attenzione, però tutto sommato l'obiettivo non si comporta affatto male, quindi è un obiettivo che vi può dare soddisfazioni elevatissime in tutti i campi se a distanza ravvicinate, sia infinito, sia a media distanza di lavoro con dei diaframmi ottimali che vanno da volendo anche a tutta apertura ma sicuramente di uno stop 5-6 sino a f11 anche f16. Beh devo dire, a parte che la 9 si impugna bene, ma devo dire che questo 11 mm che è un grandangolare veramente da paura, è un divertimento ad operarlo, sarà che anche con la messa a fuoco manuale vi faccio vedere, ve l'ho già fatta vedere questa levettina similleica, non so se riuscite a vederla bene, è una goduria nella messa a fuoco anche perché la messa a fuoco è una frizione meccanica, l'obiettivo è tutto meccanico ma si sente anche nella frizione, l'obiettivo non si allunga durante la messa a fuoco, il diaframma, la ghiera dei diaframmi ha degli scatti ben precisi, ben secchi, comunque è una lunga focale, la messa a fuoco ha da media a lunga distanza anche se non è precisissima, basta chiudere di uno stop o due che avete a fuoco dalla punta dei piedi all'infinito, anzi mi raccomando perché con questo obiettivo se dovete stare molto attenti a non ricordarvi la punta dei piedi, quindi state molto attenti, un 11 mm alle volte può fregare, ci si può divertire, la messa a fuoco minima è godibilissima perché ci si avvicina tantissimo all'oggetto, potete fare delle foto veramente spettacolari, è un obiettivo divertente che vi permette la fotografia creativa, se siete dei puristi della fotografia nel senso volete la massima correzione, le distorsioni eccetera, l'obiettivo vuole messo in bolla quindi ci vorrebbe un cavalletto che comunque il cavalletto aiuta per avere una fotografia più ragionata, per avere tutti in asse, la vignettatura c'è avete visto, è presente ma miseria, un 11 mm si corregge facilmente in post produzione, non ci vuole un granché, la nitidezza è sempre veramente tanto spinta, a tutte aperture i bordi stanno un po' indietro ma basta chiudere di uno stop che i bordi sono più o meno come il centro, la nitidezza è veramente alta su questo Sony A9 e sono convinto che questo obiettivo risolve anche i sensori da 40, 45, 50, 60 milioni di pixel, è un obiettivo come dicevo che ha tantissimi innesti, all'innesto RF per Canon, all'innesto Nikon Z, all'innesto Sony E, all'innesto EleMount quindi va bene sulle Panasonic per dire, sulle Leica mirrorless, all'innesto Leica M per le macchine, le meccaniche classiche Leica, un obiettivo che si trova a un prezzo adeguato tenendo conto che è un 11 mm, tenendo conto per come è costruito, tenendo conto delle sue prestazioni, mi sarebbe piaciuto che fosse anche tropicalizzato, dico la verità, io continuo a dirlo ai ragazzi di Image Console che ci forniscono obiettivi per fare i test e loro passano parole ai cinesi, speriamo che ci ascoltino, quindi l'obiettivo veramente eccellente, poco spazio in borsa, non costa un occhio della testa, 750 sarà sugli 850 euro, magari in certi periodi si trovano anche i cashback, ormai noi fotografi, noi appassionati, dato che vogliamo riempire la borsa di obiettivi o di macchine fotografiche, siamo tutti così, aspettiamo magari qualche cashback, comunque già senza cashback è un obiettivo che in rapporto qualità prezzo veramente come si dice noi eccellente della madonna. Detto questo spero di avervi raccontato bene questo obiettivo, se vi è piaciuto l'articolo ovviamente, ma sicuramente mettete un like, ricordate di fare l'iscrizione mi raccomando al nostro canale, spuntare la campanellina e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!